Buonasera a tutti, commentiamo oggi l'incontro di cartello dell'ottavo turno del campionato italiano online tra Giorgio Castellano e Fabrizio Losurdo. Ecco l'incontro è iniziato, abbiamo giocatore bottom Giorgio con le pedine bianche e top invece Fabrizio con le pedine nere. Abbiamo già un chiamiamolo proto back game, Fabrizio ha indietro quattro pedine, però ancora non lo considererei un back game perché è ancora presto, è più un holding game con due portieri diciamo così. Beh 5 e 4 direi che deve fare casa 16, oppure potrebbe anche colpire sul 14, ma mi sembra questa la scelta migliore. Allora diciamo che Giorgio è in netto vantaggio, vantaggio in corsa, ha portato in salvo le pedine ma adesso Fabrizio ha colpito, quindi sostanzialmente ha riequilibrato la posizione. 4-1 non è proprio comodissimo, probabilmente giocherei 24-20 e colpirei. ottimo doppio 4 di Giorgio, che sicuramente colpisce sul 9 ma colpirei anche sul 5, un double hit, un double tiger. Però rimane un 4 da giocare non comodissimo. quindi questa potrebbe essere la scelta migliore. Qui direi che deve colpire Fabrizio perché altrimenti andrebbe sotto attacco e qui probabilmente deve rientrare sul 20 e colpire sul 5, quindi tanti blot in giro. Ha provato anche la mossa safe, perché in effetti Giorgio è in vantaggio in corsa, ma questa appunto sembra la migliore. Qui potrebbe anche pensare di cubare. perché sicuramente farà casa 5, quindi ha un bel vantaggio. Vantaggio in corsa di 29 pip. Ragionevolmente farà il cosiddetto rec, quindi ottima posizione in casa. Però il double per GNU è leggermente prematuro. Vediamo di quanto. Di 36 millesimi. Adesso ha colpito un'altra pedina, quindi Fabrizio si trova con tre pedine sulla casa 24, quindi è in situazione scomoda direi. Sicuramente deve giocare 24-22. È molto importante, però non ha un 3 comodo. potrebbe essere 4-1. Ho 13-10. 13-10 però è a colpo doppio, secondo me è un po' troppo rischioso. doppio 5. Fa casa 3. Preferirei fare casa 3 piuttosto che colpire l'altra pedina, che probabilmente riuscirà a colpire ugualmente. Riesce a rientrare Fabrizio. però la situazione è abbastanza grigia. Anche se il problema di Giorgio è quello di portare in risalvo le pedine dalla casa 16. 3-2, casa 2. Qui 6-3. Ok, viene avanti con entrambe. Non viene colpito. direi 6-5. Così a occhio Giorgio ha un 20%. 20-25% di Gemmon. 10-7. Giocherei 8-6 e 5 off. Fabrizio deve sperare di tirare un 6 rapidamente in modo da diminuire i rischi di Gemmon. questo 4-1 non è semplicissimo. Penso che giocherei 6-2 e 5-4. il gap interno sulla casa 4 non mi piace. invece no, sbagliata. era preferibile quella che stava giocando Giorgio. errore di 73, quindi quasi un blunder. doppio 5. Questa tiro salva molti Gemmon. qui scapperei con una pedina. Giorgio si scopre. viene colpito. allora ha portato fuori 9 pedine. per cui se anche Fabrizio chiude la casa le possibilità di vittoria di Giorgio sono intorno non so se avrei chiuso o se avrei sperato di colpire una seconda pedina. quindi con 9 pedine fuori le possibilità di vittoria sono intorno al 60% però ha il gap sulla casa 1 per cui probabilmente siamo intorno al 50%. però diciamo anche che non ha la posizione ottimale di Bear Off, Fabrizio. doppio 6, però viene colpito. 6, 5 e scavalca. quindi un grosso vantaggio per Giorgio. 3, 2. doppio 2, però serve un doppio. niente doppio. 2, 0 per Giorgio. 4, 2 ovviamente fa casa 4. 5, 1. penso che giocherei 13, 8, 24, 23. altra possibilità 20, 14. 5, 1, 24, 23, 13, 8. 5, 1, 24, 23, 13, 8. vediamo. vediamo. 13, 8, 6, 5. avrebbe dovuto slottare. beh, 2, 1 direi che deve fare l'ancora, la cosiddetta Butterfly Anchor. 4, 2, Giorgio fa casa 4. a questo punto Giorgio direi che è in netto vantaggio, vantaggio in corsa, ha una sola pedina indietro. adesso fa anche casa 5, quindi ha un Prime da 6 bucato, un Prime da 6 bucato. Questa è la mossa safe, d'altra parte con la struttura offensiva di Giorgio non fa piacere avere una terza pedina indietro, questo potrebbe essere un double ma difficilmente perderà il mercato Giorgio per cui può aspettare. Adesso sicuramente col 6.1 e col 6.1 6.6 e forse 3.3 potrebbe perdere il mercato, quindi il double mi sembra corretto, 6.5 sì mi sembra la mossa migliore. 16 pip di vantaggio, 5.2 scende dal mid, viene colpito solo con un 4.4. 3.1 non è bellissima, non penso che giocherei questa, mi sembra troppo rigida. Avrei preferito giocare 8.5, 8.5, 8.4 diciamo. 4.2 sì, direi 6.2 3.1 2.1 8.5 Mi sembra la più flessibile. 5.2 chiude Fabrizio la sua casa interna. 5.2 deve giocare 6.1 4.2, non c'è molto altro. Doppio 6 che non può giocare, 6.4 deve giocarlo dall'8. 6.1 non va male perché non deve smontare la casa. 3.1 giocherei dal 6, 6.2 6.2 è costretto a scappare, 6.1 chiude casa, le possibilità di Gammon sono abbastanza ridotte. 4.1 esce dal 5. 4.1 esce dal 5. anche se è doppio save, lo chiude e diciamo che Giorgio si porta sul 4 a 0 stanno giocando tutti e due molto bene intorno ai 2 in realtà per il momento non ci sono state scelte difficili però comunque giocare a 2 è un signor giocare 3, 2 direi avrei fatto l'ancora 4, 3, 9, 5, 23, 20 qui deve colpire sulla... non è detto che debba colpire sul 5 perché Giorgio ha una casa forte quindi io forse avrei pensato anche a 24, 21 però Gnu da corretta la mossa 24, 21 era un errore da 39 Giorgio fa casa 3, corretto 4, 2 forse deve colpire le due pedine invece no, corretto pare casa 4 no, in realtà Gnu preferisce le double hit ma per 9 millesimi ottima ancora di Giorgio che non viene colpito ha slottato sulla casa 7 ma non viene colpito adesso sta decisamente meglio però rimane il la pedina impresa probabilmente giocherei 7, 2, 6, 3 invece no, 13, 5 la mossa pura vediamo di quanto era sbagliata la mia 7, 2, 6, 3 di quasi 70 errore non da poco e qui sarebbe bello fare l'ancora ma non ha un 4 buono però penso che farei l'ancora e giocherei 13, 9 duplicando i 4 la scelta di Fabrizio non viene colpito la corsa è all'incirca pari 5, 1 farei casa 8 6, 5 colpisce Giorgio ottimo tiro per lui Fabrizio danza 6, 6, 1 qui potrebbe fare casa 2 ma è rischioso potrebbe scappare con dal 20 ma è rischioso anche quello ecco qui no, secondo me è presto per cubare 6, 4 scapperei sì e a questo punto 17 pip di vantaggio penso che cuberei dovrebbe riuscire a coprire le pedine il vantaggio è convincente Fabrizio ha 3 pedine nell'ancora sulla casa 4 il double ci sta e direi che è anche un take adesso ci sono un po' di indiretti invece il double era prematuro doppio 5 non è un tiro fortunato 6, 5 qui alla scelta ma penso che porterei in salvo la pedina dal 16 perché comunque dall'11 non pedine sull'11 non sono a tiro diretto questo non è un tiro fortunato doppio 4 ottimo per Giorgio 5, 4 dal 5 6, 5 6, 5 altre due pedine fuori doppio 4 e qui deve andare via ed è un altro game per Giorgio direi che andiamo sul 6, 0 a meno di clamorose sorprese no, è sicuro il game per Giorgio quanto hanno pensato quanto hanno pensato intorno ai 3 minuti a testa quindi ragionevolmente veloci e stanno giocando Giorgio poco sopra i 2 e Fabrizio a 1,5 ottima prestazione per entrambi 4, 3 qui giocherei 13, 9 e 8, 5 invece colpisce entrambe la scelta è corretta la mia sarebbe è stata un blunder Fabrizio colpisce dal bar sicuramente corretta 4, 2 Giorgio fa casa 4 migliora sensibilmente la sua posizione e qui penso che si farei l'ancora e verrei giù dal 13 sì 8, 5 sembra oppure anche 13, 10 per il preferito 8, 5 vediamo no 23, 20 e 11, 8 3 sì in effetti le pedine vanno portate avanti ma penso che giocherei 9, 6 9, 8, 6, 4 sì stessa idea mettere in sicurezza le pedine però più flessibile 9, 8, 6, 4 allora qui io giocherei 22, 11 abbandonerei la butterfly anchor la scelta di Giorgio corretta perché non ha timing per tenere tutte quelle pedine indietro Fabrizio colpisce Giorgio danza questo potrebbe essere un cubo con tutte queste pedine indietro accetterei il posto di Giorgio anche se il punteggio 6, 0 inviterebbe la prudenza però secondo me è ancora un take Giorgio ha buone possibilità di ancorarsi anche se ci sono diverse pedine che fanno diversi tiri che fanno casa in testa sul 2 quindi 6, 1 6, 4 4, 1 6, 6 3, 3 forse un po' tanti qui 24, 20 infatti take era un pass era un pass da quasi 200 c'erano troppi tiri che blizzavano però in realtà adesso Giorgio è riuscito ad ancorarsi e a fare un prime da 6 Rientra subito avrebbe preferito danzare sicuramente Fabrizio Fabrizio tira un 6 adesso Giorgio rischia il gammon però 6, 1 è un ottimo tiro per lui viene ricolpito ma si probabilmente deve colpire però Fabrizio ha 3 pedine dietro un prime da 5 quindi non è una posizione facile Giorgio danza e non gli va male deve sperare di continuare a danzare invece no qui giocherei 5 1 4 1 Giorgio è il primo a dover smontare il prime da 5 6 3 penso che andrei via dal 23 vediamo 23 14 era preferibile qui non è così scontato che riesca a tirare i 6 che gli servono e quindi dovrebbe potrebbe dover smontare il prime fabrizio fabrizio qui giocherei 13 5 4 2 non ha tirato il 6 che avrebbe voluto adesso invece tira il 6 gliene servono parecchi forse giocherei 15 12 e 5 1 doppio 6 ottimo per fabrizio colpisce un'altra pedina qui le possibilità di gammon sono direi abbastanza elevate e tanto il livello è sempre molto elevato intorno ai 3 Giorgio e poco sopra i 2 Fabrizio Giorgio sta pagando a caro prezzo il take adesso rischia un tool gammon deve tirare al più presto dei 6 ecco scappa con una pedina 3 1 fuori 2 6 4 diciamo che sta riducendo i rischi di gammon 5 4 deve mettere due pedine sull'uno che non non aiuta doppio 6 invece aiuta tantissimo per il gammon sì direi che non ci sono altre possibilità ma no giocherei 4 3 2 1 farei pick and out 6 2 adesso deve correre per evitare il gammon 6 5 adesso tira un doppio Giorgio va Fabrizio e va sul 4 6 riapre un match che sembrava già indirizzato verso un netto vantaggio per Giorgio qui giocherei 13 8 a un pilone sul 13 casa di Fabrizio più forte mi sembra la scelta migliore qui ancora sul 21 e 13 8 doppio 2 casa 9 2 1 bar point corsa all'incirca pari buona ancora avanzata per Fabrizio però Giorgio ha una sola pedina arretrata quindi direi che la il game è abbastanza equilibrato questa non l'avrei fatto probabilmente sarei scappato dall'ancora no 13 5 avrebbe slottato scappare dall'ancora era un blunder direi che rientrerei sul 21 giocherei 11 9 invece no posizione interessante Fabrizio ha una struttura da blitz ma 3 pedine arretrate 3 6 10 pedine in zona d'attacco Cuba per me deve accettare Giorgio perché appunto ha una buona struttura nessuna pedina sprecata e Fabrizio ha 3 pedine indietro questo è un pick and cover molto buono no penso che avrei coperto casa 2 ma Gnu dà corretta la mossa di Fabrizio la mia era un errore da 26 e adesso Giorgio rischia tantissimo rientra però con entrambe le pedine doppio 4 colpisce dal 22 al 14 qui deve colpire sul 4 altrimenti ha grossi problemi però riesce a colpire Fabrizio colpisce ancora danza col 6 fa la quinta casa direi che 24 20 e qui si profila un altro gemmon per Fabrizio però riesce ad ancorarsi chiude il prime da 6 si mi sembra importante chiudere il prime da 6 invece no 15 11 preferibile differenza ridottissima no qui ha scelto di non fare il prime da 6 non sono d'accordo la scelta si rivela azzeccata se Giorgio tarda a rientrare e a quel punto si trova già il barpoint libero e la scelta Giorgio continua a non rientrare per cui i gemmon sono tanti e potrebbe passare in vantaggio Fabrizio 5 2 2 off rientra col 6 scappa con una pedina però se non riesce a colpire una pedina sarà difficile evitare il gemmon farei casa 5 qui Giorgio deve cercare di predisporre una struttura di contenimento perché se non colpisce la pedina sicuramente non riuscirà ad evitare il gemmon qui adesso ha qualche tiro che scopre no questo è ottimo 4 2 continua a non scoprire qui probabilmente uscirei con una pedina doppio 3 eccezionale qui doppio 6 deve rimanere sperando nel famoso coupe classic invece baggammon e fabrizio si porta sul 10 6 quindi dal 6 0 per giorgio siamo passati al 10 6 per fabrizio in due soli game 4 1 qui farei il double hit invece no corretta la scelta di giorgio la mia era un errore da 42 e questo è assolutamente un double penso che sia un pass la struttura di giorgio è troppo buona però non è detto in realtà ha solo due punte nella casa interna infatti era un take 6 2 24 18 13 11 anche questa è la mossa di magrill che è meno buona ma è sicuramente interessante perché duplica i 3 e i 6 allora 4 2 io giocherei farei casa 4 potrebbe anche colpire sul 18 3 possibilità vediamo nell'ordine questa è corretta e allora la mia fare casa 4 è sbagliata di 3 millesimi e 11 5 era la peggiore ma comunque molto vicina 4 6 ottimo tiro per Giorgio qui farei l'ancora sul 21 senza dubbio questo potrebbe essere un double ma secondo me è presto Giorgio Cuba sicuramente è un take il double è corretto corretto di 4 millesimi insomma quindi era corretto sia cubare che non cubare doppio 4 per Fabrizio che non è eccezionale avendo 5 pedine indietro penso sì che colpirei e qui deve colpire sul 7 qui farei casa 2 vediamo sì faceva casa 2 però la mossa di Giorgio è un errore da 28 millesimi qui andrei sul 21 5 1 23 18 e penso 6 5 questa mi piace di meno 21 16 7 6 doveva mettere in salvo la pedina e questa è una posizione difficile sicuramente stavo pensando a questa mossa che sicuramente se non viene colpito può fare l'importantissima importantissimo bar point però forse è un po' esagerata non è non è facile non è piaciuta a Gnu 3 1 qui secondo me deve colpire però potrebbe colpire anche sulla casa 4 5 1 non è un gran tiro 5 6 1 secondo me deve assolutamente fare il bar point punto 18 perché non ha timing per il bad game e poi giocherei 8 7 invece Fabrizio colpisce non mi piace tanto 8 7 mi sembra abbastanza convincente vediamo questo è un errore 21 15 7 6 ho anche 24 18 7 6 24 18 8 7 era anche questo un errore da 70 80 io immagino che dopo questo game l'IPR peggiorerà perché è sicuramente un game molto complesso no colpire sulla casa 2 no io penso che giocherei 23 18 e 15 11 6 5 qui 24 18 e 23 18 sembra la scelta migliore non farei casa 2 invece no scelta corretta vediamo la mia era un errore da 34 4 3 farei casa 21 doppio 5 direi che è molto buona per Fabrizio andrei sulla casa 13 e e andrei sulla casa Fabrizio in vantaggio per 10 7 al cubo a 2 in mano quindi questo è un gammon molto importante e la la l'un 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 sì direi che Fabrizio è molto in vantaggio in corsa per cui questa mi sembra una buona scelta preferisco l'altra anche perché Giorgio ha il mid strippato 15-14 danza a 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 posizione molto complessa perché siamo passati dal back game per Fabrizio al back game per Giorgio intanto il tempo non è tantissimo, Giorgio ha tre minuti, Fabrizio quattro 5-2, giocherei probabilmente 8-1 grazie a tutti qui è molto probabile che si scopra Fabrizio Giorgio ha fatto un'ottima casa interna e qui direi 21-22-16 oppure 22-15 21-14 è invece la mossa corretta 6-4 qui lascia un tiro diretto non colpisce a questo punto Fabrizio comincia ad avere buone possibilità di portare in salvo tutte le pedine adesso sta pensando di cubare secondo me non deve cubare perché se porta in salvo le pedine potrebbe anche far gammon aggiudicarsi il match quindi non cuberei al suo posto due minuti e mezzo per Fabrizio quasi 4 minuti per Giorgio decide di non cubare secondo me correttamente tira un 2-1 interlocutorio 6-1 si scopre tiro doppio però non colpisce qui Giorgio sta pensando ad evitare il gammon ma probabilmente avrei coperto casa 2 qui allora sul 12-7 sarebbe Crawford 1-Away 6-Away 11% di possibilità secondo me ci sta il drop e comunque nonostante il game molto complicato stanno giocando ancora intorno ai 3 veramente complimenti ottima partita qui siamo al Crawford Giorgio ha un punteggio dispari per cui per lui sarebbe molto importante il gammon 5-2 non colpisce la pedina sul 5 e Fabrizio riesce ad ancorarsi riducendo di tanto i gammon però se non rientra diciamo che i gammon aumentano di parecchio Giorgio ha giocato due mosse imprecise è stato punito Fabrizio colpisce ancora più 1 deve venire avanti 2-1 bar point 6-3 forzata colpisce ancora Fabrizio direi 18-12 direi 18-12 3-1 ottimo tiro per Fabrizio questa questa non è facilissima la pedina sul 2 non l'avrei messa la pedina però riesce a colpire 2-1 eccezionale anche l'1 è molto buono per Giorgio qui deve colpire direi penso che avrei coperto dall'8 però ha un ottimo prime comunque da 5 non sarà per niente facile per Giorgio scavalcarlo direi 16-11 12-6 5-1 fa casa in testa 6-2 non è un gran tiro qui si scopre e qui rischia parecchio si scopre ancora ma Giorgio non colpisce a questo punto è nettamente in vantaggio Fabrizio e diciamo che è nettamente favorito per vincere il match si ormai ha tirato fuori 6 pedine tira anche un doppio 2 il match è terminato sicuramente è giocato a ottimo livello Giorgio intorno ai 3 Fabrizio intorno ai 4 complimenti a tutti e due e buona continuazione di torneo grazie a tutti